Cari amici, buongiorno e ben ritrovati da Arredamenti Veneghello a Limena. Oggi vogliamo presentarvi un articolo in offerta che abbiamo disponibile qui in negozio presso di noi in pronta consegna, è un vero affare. Si tratta di un letto completamente in legno massello in rovere, quindi un articolo di una altissima qualità che presenta una testiera, la vediamo qui, di uno spessore molto interessante e con una lavorazione ondulata nella parte bassa sia del ring che della testiera appunto. I comodini sono di due diversa natura, quindi molto moderni, molto attuali. Abbiamo la prima versione di comodino che è esterno con due colori a laccatura in abbinamento, mentre il secondo comodino sull'altro lato che invece è un comodino tradizionale con i cassetti, uno dei quali anche presenta la lavorazione ondulata, quello vedremo meglio. Compreso nell'offerta ci sono anche i due faretti che sono in metallo grigio della stessa finitura del piede sospeso, quindi è molto semplice da utilizzare questo letto perché essendo sospeso si può pulire facilmente nella parte sottostante, è un letto di qualità completamente in legno massello, quasi introvabile e ad un prezzo strepitoso signori. È in offerta, abbiamo solo un pezzo disponibile, quindi veniteci a trovare su appuntamento, vi riceviamo con le braccia aperte, venite a vederlo e capirete la qualità di questo articolo. Non lasciatevelo sfuggire. Una buona giornata, ciao!